ITR Mario Galetti dell'IKF ha comunicato che, in merito all'offerta vincolante relativa all'acquisizione di OTI, la scadenza per la stipulazione del contratto definitivo è stata prorogata al 5 maggio. Il rinvio si è reso necessario per consentire a ITR OTI lo svolgimento di tutti gli adempimenti procedurali necessari per la ricostruzione della contabilità della OTI. Intanto, dopo la firma del protocollo d'intesa tra Confartigianato Molise e CISL Abruzzo Molise per il rilancio del settore moda nel territorio molisano, prosegue l'azione congiunta delle due organizzazioni. Giovedì si svolgerà, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Isernia, un'assemblea pubblica aperta a tutti e in particolare ai fasonisti, ai lavoratori cassi integrati e in mobilità dell'ITR S.P.A. e a tutte le aziende dell'indotto gravemente colpite dalla crisi territoriale. Durante l'evento saranno illustrati i contenuti del protocollo, che prevede la nascita di uno specifico sportello, presso la sede di Isernia della Confartigianato. Lo sportello offrirà a tutti gli interessati assistenza finalizzata allo sviluppo e alla costituzione di imprese artigiane e piccole imprese del settore moda, nonché tutti gli strumenti idonei, a valorizzare tutte le maestranze locali e a favorire il loro reimpiego nel mercato del lavoro, creando concrete opportunità di sviluppo futuro. L'incontro è stato promosso da Francesco Tosci, presidente della Confartigianato Molise. Inolto 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 Drake Inolto